ciao amici come va si ricomincia a vivere piano piano si vede la luce in fondo al tunnel speriamo dopo questa lunga quarantena che poi è una sessantena novantena durata quasi tre mesi in molti mi state scrivendo moltissimi per avere consigli sugli effetti collaterali di questo che sono soprattutto due per cui mi chiedete come dimagrire senza dieta con il mio metodo naturalmente e come eliminare la cellulite e rassodarsi ma in modo definitivo dall'interno e oggi ho un annuncio speciale per rispondere a queste due esigenze sto preparando le mie migliori strategie naturali sto mettendo insieme il meglio del meglio mai proposto prima per ottenere risultati velocemente e migliorare non solo l'aspetto ma anche la salute come dico sempre perché questo è l'unico modo per avere risultati definitivi e duraturi nel tempo vedete uno dei problemi più grandi di chi vuole ritrovare il peso ideale senza le rinunce drastiche della dieta ottenere gambe o un corpo tutto bello liscio e teso senza cellulite il problema dicevo è non avere le giuste strategie quelle che funzionano veramente e invece seguire delle indicazioni che squilibrano l'organismo per cui peggiorano la situazione invece di migliorarla solo i rimedi naturali e una generica alimentazione sana non riescono a fare ottenere un dimagrimento consistente fatto bene e le creme anticellulite funzionano solo in superficie poi tutto torna come prima anzi con gli interessi e anche gli esercizi fatti per dimagrire o per la cellulite spesso non portano i risultati desiderati nonostante tutta la fatica tutto l'impegno è pante sudate mi occupo di cellulite da oltre 25 anni perché ho collaborato per tanto tempo con mio padre che era un famoso dermatologo e insieme abbiamo curato moltissimi casi di cellulite ma quella ostinata con una strategia sinergica a 360 gradi mentre imparavo da lui i veri segreti di come funzionano i tessuti e la pelle aiutavo moltissime persone centinaia di persone a dimagrire in modo naturale e così negli anni ho messo a punto il mio sistema di salute naturale con le strategie giuste per tutti chi vuole dimagrire in modo naturale e non ha problemi di cellulite chi ha la cellulite vuole liberarsene ma non deve necessariamente perdere peso e chi deve perdere sia il peso che la cellulite e poi in 25 anni migliaia di miei clienti hanno avuto successo e ottenuto risultati basta leggere tutti i commenti spontanei spontaneamente scritti nei commenti di youtube e adesso voglio aiutare tutte le persone che mi seguono e mi chiedono ma simona qual è la strategia migliore per me voglio dimagrire ma senza dieta oppure voglio liberarmi dalla cellulite in modo definitivo mi puoi aiutare certo sicuramente e per farlo oggi con questo video vi chiedo io prima un piccolo aiuto da parte vostra aiutatemi ad aiutarvi è un gioco di parole lo so ma rende l'idea se potete dedicarmi due o tre minutini del vostro tempo per rispondere a un questionario molto preciso breve sulla cosa che vi preoccupa vi infastidisce vi frustra di più o riguardo all'aumento di peso che non se ne va più o riguardo alla cellulite su gambe glutei cosce pancia ovunque sia sono due questionari separati quindi rispondete per favore a quello che vi riguarda trovate il link qui sotto in descrizione o nella scheda cliccabile qui in alto vi prometto che creerò per voi un percorso straordinario mai visto prima estremamente efficace molto dettagliato ma semplice da seguire come sempre quindi il feedback le risposte che mi darà ognuno di voi mi sarà utilissimo per poter rispondere a tutte le esigenze così sarete tutti snelli in forma soddisfatti del vostro aspetto e lisci tonici senza cellulite bastano solo pochi minutini per rispondere al quiz benissimo tutto quello che dovete fare lo ripeto e cliccare nel link in descrizione uno dei due questionarii o li trovate anche nella ic qui sopra benissimo vi ringrazio tanto per il vostro aiuto namaste per me significa moltissimo e vi avviserò non appena sarà pronta la mia strategia sarete i primi a saperlo sono sicura che ne sarete entusiasti come lo sono io ma nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao